Questo è un video diverso dai soliti, non mi concentro esclusivamente sulla fotografia, ma affronto un argomento che molti considerano un vero e proprio game changer, un cambiamento importante, capace di farmi ottenere dei risultati significativamente differenti rispetto al passato. Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video, oggi ti voglio mostrare un bel giocattolo, un bel giocattolo che è entrato a far parte delle attrezzature che mi serviranno per realizzare i miei contenuti online e si tratta di questo, di un van, un mezzo che mi permetterà di essere più autonomo, più comodo nel raggiungere dei posti, posso anche lavorare al suo interno, quindi lavorare nei luoghi dove vado a fare le escursioni, ma fra poco parleremo di tutte le motivazioni che mi hanno portato a fare questa scelta, un'importante scelta impegnativa, ma iniziamo un po' per volta. Intanto però entriamo in modo da essere più comodi e un po' all'ombra, perché fa piuttosto caldo nonostante sono in montagna. Ed inizio chiarendo subito che si tratta di un mezzo usato, quelli nuovi costano tantissimo, è un Fiat Ducato Maxivan con 60.000 km dal 2007. Cosa significa Maxivan? Significa che è molto alto come soffitto, l'hai visto anche dall'esterno, potrebbe sembrare una scomodità, in realtà non cambia assolutamente nulla al lato pratico, però è comodo all'interno come vivibilità, essendo molto più alto puoi stare in piedi, anche delle persone alte, c'è un ricircolo di aria migliore, ci sono tanti tanti posti dove stipare la roba, perché i van sono un po' strettini diciamo, quindi hai poco spazio per quanto riguarda tutti gli elementi che hai all'interno del luogo di movimento, ma è perfetto per quello che voglio fare io. Per fare questo video ho deciso di pormi delle domande alle quali vado a rispondere, domande che potrebbero interessarti oppure che potrebbero anche solamente incuriosirti, ad esempio una di queste è perché hai scelto un van? Quando hai un'auto puoi spostarti eccetera, se mi vedo un po' di tempo, sebbene che io abito a circa due ore e mezza dall'ambiente dolomitico quindi ci sono tantissimi bei posti che posso raggiungere in giornata, però anche lì se ci pensi due ore e mezza andare, due ore e mezza tornare, sono comunque cinque ore di strada e poi se consideri che i momenti migliori per la fotografia sono magari l'alba o il tramonto, le condizioni atmosferiche instabili, ecco che magari finire col tramonto a delle ore tarde, ad esempio qui adesso in primavera estate che il sole cala molto tardi, ecco che significa dover fare tante ore di ritorno o ore tarde quando sei stanco, stessa cosa per l'alba, significa svegliarsi veramente alla mattina, a volte conviene veramente stare in auto e fare un tramonto e l'alba ma è tutta una tirata molto scomoda. Avere un mezzo come questo invece mi permette di andare su una zona sosta libera, ce ne sono tantissime, essere totalmente autonomo, energia elettrica, bagno, riscaldamento nel caso di condizioni atmosferiche difficili, sono al coperto, posso farmi da mangiare, insomma è comodo sotto tanti punti di vista per chi realizza contenuti nelle zone montuose, deve fare dei viaggi, stare fuori parecchie ore. Eh sì, la vita in van è anche questo. Un'altra domanda che ci si potrebbe fare e se sei un camperista magari te la stai già facendo, se non lo sei adesso lo capirai, è perché hai scelto un van piuttosto che un camper? Anche se alla fine sembrano la stessa cosa, in realtà i van costano molto di più a parità di caratteristiche e servizi rispetto ad un camper, anche nell'usato. Il motivo forse non è poi così reale ma dal mio punto di vista ho preferito il van perché è un po', lo vedo, lo sento più compatto, più pratico, invece per me è che vado a girare magari dei sentieri di montagna dove si può andare con il mezzo, questo qui è largo poco più di 2 metri, 10 centimetri più largo rispetto al mio automobile, quindi alla fine la differenza è veramente minima, è un po' più lunga ovviamente, ma per girare in montagna su stradine un po' più strette è più comodo dal mio punto di vista. Ma facciamo anche un breve tour alla fine così ti faccio vedere anche le modifiche che ho fatto sul mezzo perché quando si prende qualcosa di usato insomma non sempre è perfetto come lo vogliamo. E parto dall'abitacolo, in realtà non c'è molto da dire sull'abitacolo così è così te lo tieni, tuttavia ho voluto fare un miglioramento acquistando, spendendo anche relativamente poco, dei rivestimenti per i due sedili, i sedili originali erano blu, erano un po' scottati dal sole ma per il resto andavano benissimo, anche l'occhio vuole la sua parte e così insomma sono un po' più belli e ci stanno bene con il mezzo. Una modifica più importante ed impegnativa la puoi vedere qui, qui si vede la struttura del van, andrò a coprire ovviamente questi buchi facendo dei rivestimenti adatti, ma perché ci sono questi buchi? Perché qui c'era un letto basculante meccanico che scendeva e permetteva di recuperare un altro letto matrimoniale. Ho già qui dietro un letto dove si sta comodamente in due persone, ma perché sono andato a toglierlo? In realtà perché questo letto basculante meccanico mi andava ad abbassare moltissimo il soffitto, non mi piaceva, mi sentivo un po' soffocato e poi ho fatto un'altra modifica per recuperare appunto i posti letto che mi servivano. E la modifica l'ho fatta qui sulla dinette dove vedi questa struttura in legno con questo supporto serve per poter abbassare il tavolino e recuperare praticamente un altro letto da una piazza e mezza qui. Infatti è vero che qui c'è già un bel letto matrimoniale molto comodo per due persone, ma in realtà in famiglia siamo in quattro e io questo mezzo lo utilizzo anche per le gite con la famiglia e quindi mi servivano degli altri posti letto. L'idea poi è in futuro di fare una modifica sfruttando i montanti qui in acciaio della vecchia struttura per realizzare qui un letto singolo basculante che scende, che non mi va ad oscurare l'oblò e che permette appunto di avere un posto letto aggiuntivo o più comodo. Questo mezzo è totalmente autonomo anche dal punto di vista energetico, ho tutti i servizi che mi servono, il bagno, la doccia, l'acqua calda, gli scarichi, ho il gas per appunto riscaldare, fare l'acqua calda, riscaldare come ambiente, poter cucinare, ma il gas serve anche per far funzionare il frigo, trivalente che mi permette di raffreddare il cibo e anche con un piccolo congelatore, ma la cosa più importante forse è l'aspetto elettrico, energia elettrica. Tanta che qui ho un pannello fotovoltaico da 100 watt con batteria da accumulo, batteria servizi da 100 ampere che mi dà una certa autonomia, non estrema, ma una certa autonomia. Tuttavia io ho fatto delle modifiche a tutto questo impianto sfruttando ed integrando le centrali elettriche della Bluetti, ma per tutto questo aspetto ti rimando al prossimo video che potrai vedere, dove per l'appunto parlo delle modifiche che ho portato al mezzo per renderlo totalmente autonomo dal punto di vista energetico in sosta libera, ovvero quando non hai la possibilità di collegarti a delle prese di corrente. Un ultimo miglioramento modifiche che ho fatto al van è stata la sostituzione di entrambi i fari, perché come da usato erano opacizzati e presentavano delle infiltrazioni d'acqua. Si potevano ancora utilizzare, ma io ho preferito comprarli completamente nuovi e me li sono installati da solo. In realtà veramente è semplice farlo, non serve andare da un meccanico o da un carrozziere per fare questo tipo di intervento. Ma il van è adatto a tutti? Fa per te? Beh, allora, io dico che prima di buttarti su un'idea del genere, se non hai mai vissuto in un van, non l'hai mai utilizzato in un camper, noleggialo prima per un paio di giorni, un weekend, una settimana, e utilizza il mezzo, perché nonostante dispongano di tutti i servizi basilari che possono servire bagno, doccia, acqua calda, gas, riscaldamento, frigo, letto, beh, a tante persone non piace vivere in ambienti così piccoli, specie se magari poi vai a condividerli con un collega, un amico, magari con la famiglia, quindi fai dei test prima. Per quanto mi riguarda, a parte che ero abituato, è un mezzo che mi sta rendendo le cose molto più semplici. Ma in che senso più semplice? Intendo dire che adesso prendo delle decisioni in modo più facile. Quando devo fare delle escursioni, prima dovevo pianificare veramente tanto, adesso avendo un mezzo che mi dà tutto l'appoggio, il servizio che posso servirmi, posso partire con più tranquillità. Anche magari se mi si libera un buco di tempistiche per fare un'escursione fotografica breve, all'ultimo minuto, posso prendere e andare via senza dover preoccuparmi di organizzarmi per tutto quello che riguarda il viaggio, dover star lì, la stanchezza e tutto il resto. Un altro argomento, tema, e so, interessa molti di noi, specie a fotografi e videomaker, è la questione sicurezza, ma non tanto di noi stessi, ma quanto dell'attrezzatura, computer, fotocamere, videocamere che ci portiamo dietro. E te lo dico molto schiettamente, molto onestamente e serenamente, che se un malintenzionato vuole entrare in un camper, ci entra nei van ancora in modo più semplice, perché hanno questi oblò molto grandi per creare un ambiente luminoso che rendono più facile per un malintenzionato aprirli, entrare, allungare la mano, aprire lo sportellone laterale e poi portarti via tutto quello che hai all'interno del mezzo. L'unica cosa che puoi fare è creare deterrenza, ricorda questo termine, deterrenza. Io lo faccio utilizzando dei sistemi di allarme che fanno un casino pazzesco, ma veramente un casino assurdo ed ovviamente io vado a sostare generalmente dove ci sono altre persone che fanno van life, ci sono altri escursionisti e quindi, insomma, da un po' sull'occhio un mezzo che fa un casino assurdo con magari delle persone che stanno lì trafficando su un portellone, eccetera, insomma, è così la logica. E i sistemi che utilizzo si basano su due cose, un sensore di movimento e uno di vibrazioni. Il sensore di movimento, quando esco, io chiudo tutte le tendine e se qualcuno apre un qualcosa, riesce e allunga la mano per aprire il portellone, comincia a suonare, fa un casino assurdo. L'altro è basato sul sensore di vibrazione e appunto anche questo è collegato ai portelloni, se qualcuno riesce ad aprire un portellone, lo muove anche soltanto un po', comincia a suonare come un pazzo. Certo è che se qualcuno da fuori comincia a muovere il mezzo, il van, l'allarme suona, non fatelo se trovate il mio van in giro, non andate lì a muoverlo, a far tipo campanello per chiamarmi, perché fa veramente tanto, tanto casino. Però sono così le cose da tenere in considerazione. Io posso solo consigliarti di non lasciare roba di valore al mezzo, comunque lascia solo proprio le cose che non puoi portarti dietro e se puoi portati via. È il minimo dispensabile quando vuoi fare questo tipo di giri, escursioni. Ed è arrivato il momento di tornare a casa. Questo è il primo video di tre che ho realizzato in questo periodo, ce ne sarà un altro dove parleremo ancora di van, di impianto energetico, dove andremo sul tecnico e ti farò vedere come ho modificato il tutto per avere l'autonomia energetica che mi serve per le mie uscite, per lavorare anche direttamente sul posto dove vado a fare le escursioni e poi ci sarà un'uscita fotografica. Molto interessante sul passo Giao, nelle Dolomiti, dove ho fatto un'uscita per beccare il tramonto e l'alba, ma il tramonto durante la notte c'è stato un temporale pazzesco, ma il mattino successivo veramente una cosa strepitosa. Se non vuoi perderti quell'episodio iscriviti al canale e se ti piace il video metti un like. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio!